Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Al via gli esami di Stato con la prova di italiano, tra i temi Calvino, il Nobel Malala, la resistenza e l'immigrazione Disagi in vista al poderino di Fano per lo spostamento dei medici di base Taglio del nastro per la terza edizione di Passaggi Festival, fino a domenica 5 giorni all'insegna della cultura Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Partiamo dall'evento del giorno, una giornata cruciale per migliaia di studenti Perché oggi con la prima prova di italiano si è dato il via agli esami di Stato Vediamo com'è andata Non sono ancora le 15 e già siete fuori, com'è andata? Bene dai, bene Quale traccia hai scelto? L'analisi del test di Calvino I professori come sono stati oggi? No, disponibili, ci hanno anche aiutato Anche tu hai consegnato prima il tema? Sì, sì, sì Preoccupazioni invece? Per la terza prova È il primo, il più grande esame della vita, quello di maturità Una prova, anzi quattro, compreso l'orale da affrontare completamente da soli Soli al banco, soli con il vocabolario come unico conforto Soli con la penna in mano e la speranza che arrivi l'ispirazione Per i 500.000 studenti italiani, di cui quasi 13.000 marchigiani, è arrivato il grande giorno Questa mattina è stata la volta del tema, domani toccherà la seconda prova e lunedì si chiuderà con il quizzone Ragazzi, questa notte avete dormito? Sì, tranquillo E invece hai altre preoccupazioni, ad esempio per domani oppure per la terza prova? Per domani sicuramente, è finita la seconda prova, è finito l'esame L'ultimo ripasso quando l'hai fatto? Ieri sera, ma un po' così perché era il tema, però domani sono più preoccupata per domani E questa mattina sveglia a che ora? Sette Quindi molto presto? Sì Bene, in bocca al lupo Grazie Grazie A chi stai contattando subito dopo l'esame? A casa? Mia madre che è andata al lavoro Com'è andata? Quale tema hai scelto? Ho scelto l'articolo di giornale, quello lì sulla tecnologia, la comunicazione In generale come ti sono parsi? Difficili o abbastanza fattibili? No, fattibili, dai, abbastanza fattibili Vi aspettavate qualcosa, qualche traccia? No, sinceramente, ma sì, c'era la traccia sul Mediterraneo collegata al razzismo Quella lì si poteva aspettare, se no, bene così Per domani invece torni a casa, già ti rimetti allo studio oppure relax? No, 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 studio, studio La traccia scelta? Io ho fatto tecnico scientifico, l'analisi, cioè l'articolo di giornale Domani invece che cosa vi aspetta? Terrore Matematica, matematica è dura, è difficile E noi ce la mettiamo tutta e speriamo che vada bene In bocca al lupo Crepi La preoccupazione l'ha fatta da padrona o invece siete riusciti a rimanere ben concentrati? No, è stato abbastanza tranquillo alla fine, non è stato niente di così difficile Gli insegnanti invece vi hanno aiutato in qualche modo? No, non particolarmente, però comunque non ci hanno messo l'ansia Questa mattina a che ora è suonata la sveglia? Alle 7.20 Per ripassare oppure sei venuta qua direttamente? No, no, sono venuta qui direttamente E quindi com'è andata? È andata bene comunque, quindi sono contenta La prima traccia proposta agli studenti è stata quella dell'analisi del testo del brano Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino La resistenza come argomento del tema di storia Immigrazione, letteratura e le sfide del XXI secolo Quelli scelti per i saggi brevi Nel tema di attualità invece un testo della 18enne pakistana Malala Per riflettere sul diritto all'istruzione Partendo dalla citazione del premio Nobel per la pace Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo I maturandi questa mattina a che ora sono entrati nelle aule? 8.30 precisi Poi hanno dovuto controllare per l'esame di Stato necessariamente la carta d'identità Poi dopo è stato scaricato il plico telematico Attraverso una chiave di critografia pubblica Che viene pubblicata dal Ministero intorno alle 8.30 In realtà è arrivata a quei 5-7 minuti dopo Il tempo di stampare, fare tutte le copie Perché ciascuna traccia era su 6 fogli Quindi 6 fogli per candidato I candidati in totale 138 Quindi 138 per 6 Tutte le fotocopie Distribuzione delle fotocopie Alle 9 circa i candidati hanno potuto iniziare E domani si torna sui banchi per la seconda prova Quella specifica per ciascun indirizzo Genitori che aspettano con ansia i propri figli? No, senza ansia Solo che è a piedi quindi Sono uscita dall'ufficio e vengo a prenderla Ecco invece sua figlia o suo figlio chi ha qua? Mia figlia In classe con la figlia della signora Sempre aspettiamo Ricordate invece quando l'avete sostenuto voi l'esame di maturità? Sono stati un po' troppi anni Comunque sì, forse molto più ansiosa Comunque bei ricordi oppure meglio non ripensare Sì, legati alla gioventù quindi sicuramente belli E ieri sera era preoccupata? Preoccupata di più Perché stamattina sì No, da me molto, molto agitata E da mamma quale consiglio gli ha dato? Io nessuno perché tanto ero più agitata di lei Disagio in vista nel quartiere Poderino di Fano Perché entro la seconda settimana di luglio Si sposteranno i medici di base Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Io non so come farò, dico sinceramente Insomma è stata malta la vita mia Però se lei ha bisogno di qualcosa, medicina Chiamo l'ambulanza Anche per le ricette Sono preoccupati i residenti del quartiere del Poderino di Fano Che ci hanno segnalato il trasferimento di alcuni medici di famiglia Ora situati in via Umbria Ma che a breve lasceranno gli uffici medici Di conseguenza, come ci racconta il signor Mauro Centinaia di persone saranno costrette a spostarsi Oppure ad iscriversi nelle liste dei pazienti di altri dottori Il trasferimento, sebbene nell'aria da diverso tempo Preoccupa soprattutto gli anziani, i disabili e le loro famiglie Siamo tutte donne anziane E non ce la facciamo nessuno a camminare Non si può andare più lontano Cammina, cammina col carellino Ci ho l'ambulatorio vicino Da quanti anni le andava da questi medici? 50 anni No, questi no Sono 54 anni che stiamo in queste case Avevo il dottor Pambieri 50 anni tutti Che è andato in pensione? Ecco, lui è andato in pensione Quindi ultimamente lei da che medico andrà? Per me Chiodi E anche lui si trasferirà? Si trasferisce anche da voi Questo comporterà dei disagi a tanti pazienti? Tutta la zona del Fampani Fanella, Trave, via eccetera Rimarrà senza un'utenza medica E non so Quindi i problemi saranno enormi Perché è una zona che ha diversi anziani Anziane E quindi non so come ci... E il problema sarà anche per i familiari Per i parenti Che dovranno raggiungere altre zone di Fano Come ad esempio via Negusanti Che è attraversare via Roma E non sarà un semplice per tutti Capito? Ho visto il traffico Oppure il Flaminio E cose... Le distanze aumentano Tutti abbandonano la zona Invece io sono convinto Che anche per una questione di ordine pubblico Non solo l'Asle Ma anche il prefetto I carabinieri Cioè le forze predisposte O le persone predisposte Il sindaco Si diano da fare Per trovare una location nuova Se non per dieci medici Sette, otto medici come adesso Per lo meno per uno, due Al che io personalmente Non avrei problemi Ma penso anche a mia madre A prendere in carico Farmi mettere in carico Di questo medico, capito? Anche se non lo conosco Però così non si può più andare avanti La nostra redazione non è riuscita A contattare il direttore Del distretto sanitario di Fano e Pergola Per chiedere informazioni Ma sempre sull'argomento Abbiamo intervistato il proprietario Dell'immobile Il dottor Luigi Bertossi Ci ha detto che per i medici della mutua Non c'è una garanzia di distribuzione E che il loro trasferimento È una libera scelta In questo caso che cosa prevede la legge? In questo caso la legge Delega al medico Però di sua spontanea iniziativa Diciamo La presenza sul territorio Ma non la garantisce Nel senso che A dispetto di quello che avviene Per le farmacie Dove c'è una pianta organica Che garantisce la diffusione sul territorio Per il medico della mutua Così detto Per la medicina territoriale Non c'è una garanzia di distribuzione Anzi ci sono i casi Nel nord Italia In cui la stessa ASUR La stessa amministrazione pubblica Concentra i medici Che dovrebbero essere sul territorio Questo significa che loro Hanno una libera scelta? Assolutamente sì C'è una libera scelta Di collocarsi Laddove uno crede Meglio E dopo la caduta Di un'altra trave di legno È stata delimitata Con un nastro segnaletico La cavea di Lido di Fano Domani la ditta Andrà a smontarla Completamente Sentiamo Abbiamo transennato l'area Con un nastro segnalatore Bianco e rosso Per impedire l'accesso Di evitare ulteriori pericoli E domani mattina Abbiamo chiamato la ditta Che smantellerà tutto il legno Perché abbiamo visto Che è in condizioni Per essere smantellato Quindi domani Toglieremo tutto E poi Una volta approvato il bilancio Quindi fra una settimana Affideremo l'incarico Insomma Per il ripristino Per il ripristino Dell'opera Ecco Abbiamo notato Che è molto rovinato Questo significa Che non c'è stata Una manutenzione Negli anni precedenti? Sì Intanto l'opera È del 1992 In legno Quindi un materiale organico Poi le manutenzioni Sono state fatte Però evidentemente Non con la frequenza Che sarebbe stata necessaria Comunque il legno Insomma è un materiale Deveribile Per cui Sì Ecco Magari manutenendolo Manutenendolo più frequentemente Poteva durare anche un po' di più I nostri telespettatori Continuano a inviarci Segnalazioni Di buche e avvallamenti Nelle strade comunali di Fano Queste ad esempio Sono foto scattate In località Tombaccia In via Metaurilia Una strada molto trafficata Ci scrive il nostro telespettatore Visto che conduce Anche alla scuola di infanzia Andersen Di Vagocolle Un istituto che fa parte Del circolo didattico Fano San Lazzaro Come potete vedere Dalle immagini Che ha inviato La nostra redazione La strada è piena di buche E in diversi tratti È molto pericolosa Per chi vi transita Sia con veicolo a due ruoto Che in auto Nel quartiere del Poderino Invece ci segnalano Una grossa buca Alla fine di via Umbria Che collega Via L'Italia A via Trave Ed ora passiamo Alla pagina della politica Perché l'opposizione fanese Contesta un'ipotesi di modifica Del regolamento Del consiglio comunale E per impedirla Sta preparando Un contro di libera Vediamo Di che cosa si tratta Nell'articolo 22 Del regolamento Del consiglio comunale Potrebbe essere aggiunto Un comma All'1bis Il quale prevederebbe Che i componenti Della commissione Di garanzia e controllo Pesino in base Al numero di membri Del gruppo consigliare Di appartenenza E non valgano per testa Questa variazione Oltre a essere contraria A quanto ad esempio Avviene nella vicina città Di Pesaro Recherebbe un danno In maniera definitiva Al diritto dell'opposizione Di far valere Il proprio ruolo Di vigilanza e garanzia E combatta questa volta La minoranza Nel ritenere Che la vicenda Sia un attentato Alla democrazia Oggi parlo a nome Di tutta l'opposizione Come vicepresidente Del consiglio comunale E non come Movimento 5 Stelle Innanzitutto Penso che sia il caso Ricordare Lo scopo Della garanzia e controllo È l'unica commissione Permanente Consigliare Che prevede Che alla presidenza Ci sia un membro Di opposizione In questo caso C'è Roberto Ansuini Del Movimento 5 Stelle E fa parte Di questa commissione Un membro Per ogni Gruppo consigliare Quindi Nel momento attuale Per esempio Ci sono sei membri Di opposizione E quattro Di maggioranza Questo cambiamento Del regolamento Ribalterebbe Tutta la situazione Nel senso che Se ogni membro Vale per il gruppo Consigliare È chiaro che Per esempio Cristian Fanesi Che è capogruppo Del PD Varrebbe a questo punto Per 10 Invalidando Secondo noi La funzionalità Della commissione Sarebbe un'azione Estremamente grave Dea proseguito Ruggeri L'opposizione Lavorerà Per fermare Queste idee Scrivendo anche Una controproposta Di delibera Affinché ogni membro Possa continuare A valere per uno Inserire anche Questa variazione Sarebbe Limitare ancora Maggiormente La funzione di controllo Dell'opposizione Che rimarrà così Anche un domani E quindi L'attuale maggioranza Deve pensare al futuro Quando sarà opposizione Non avrà più Manco lei Gli strumenti Per operare Una vigilanza L'Assemblea Legislativa Regionale Delle Marche È convocata Per lunedì 22 giugno Alle ore 10 Sarà la prima Seduta Assembleale Della decima Legislatura Regionale All'ordine del giorno L'elezione Del Presidente Dell'Assemblea E dei componenti Dell'ufficio Di Presidenza Seguiranno Le comunicazioni Del Presidente Della Regione Luca Ceriscioli Sul programma Di governo E la composizione Della Giunta Nasce Unicredit For Tourism Un nuovo Progetto Per rilanciare Il turismo Nelle Marche L'economia Le imprese Sentiamo Di che cosa Si tratta Idee e progetti Per rilanciare Il brand Marche Nasce per mano Dell'Unicredit Banca Un nuovo progetto A disposizione Di chi vuole Rilanciare O intraprendere Nuove iniziative A livello turistico Nella nostra regione E nella provincia Di Pesaro Se ne parla Da anni Del turismo Come l'oro nero Del nostro paese La grande ricchezza Da valorizzare Per sostenere E rilanciare L'economia Di questo Si è parlato A Pesaro Alla presenza Di amministratori E operatori Turistici Nella conferenza Di presentazione Del nuovo prodotto Dell'istituto Di credito Unicredit For Tourism Unicredit 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 Che è una banca Internazionale Quindi sa bene Il valore Dei flussi Di denaro Di merci Ma anche Di persone E di uomini Che vengono A vedere A assaggiare Le nostre terre Ha fatto Un investimento Molto importante In questo senso Quindi colloca Nella regione Del centro nord Una somma Molto rilevante Parecchi milioni Di euro Che andiamo A collocare Nei prossimi anni Con un'azione Molto mirata Un budget Molto specifico Che arriva ad avere Circa 40 milioni Di euro Per questa regione Dobbiamo Cercare di valorizzare E portare Presenze turistiche Nella nostra regione In modo da favorire L'economia La ripresa Del manifatturiere Oltre che Del turismo Quindi noi Puntiamo molto Sul turismo E le marche E cerchiamo Di dargli una mano Il provveditorato Interregionale Delle opere pubbliche Sollecitato Dalla prefettura Di Pesaro Ha autorizzato In via eccezionale L'utilizzo Della darsana Del porto pesarese Per l'ormeggio Delle imbarcazioni Da di porto Durante l'estate Vista l'impossibilità Di ormeggiare I natanti In altre aree Del porto A causa Dell'insabbiamento Dei fondali L'autorizzazione È stata concessa In attesa Dell'avvio dei lavori Che interesseranno Alcune banchine Ed ora veniamo Agli eventi All'ex chiese Di San Leonardo In via Cavour Raffano Sabato 20 E domenica 21 giugno Teatro Linguaggi Presenta Nati sotto Contraria Stella La storia di Romeo E Giulietta Uno spettacolo Che avrà inizio Alle ore 21 e 30 E che sarà Interpretato dagli Allievi del laboratorio Linguaggi L'iniziativa È ispirata All'opera di Shakespeare Ma che ha anche Altri racconti Recenti E posteriori Al suo capolavoro È stata inaugurata Oggi la terza edizione Di Passaggi Festival della saggistica L'inaugurazione È avvenuta Intorno alle 17.30 Al chiostro Delle Benedettine Di Fano Con la partecipazione Dello scultore Eleseo Mattiacci Che ha messo a disposizione La sua scultura La locomotiva Posizionata Davanti all'ingresso Dell'ex chiese Di San Domenico All'inaugurazione Sono intervenuti L'assessore Stefano Marchegiani E Renato Claudio Minardi Che ha portato I saluti Del neopresidente Della regione Marche Luca Ceriscioli Sul palco Anche il regista E produttore Francesco Siciliano Figlio dello scrittore Enzo E gli organizzatori Del festival Può dirci Tutto sull'America Non se possiamo Essere Orgogliosi Di essere Americani Da oggi A domenica 21 giugno Si alterneranno A passaggi festival Economisti Politici Storici Intellettuali Sportivi Affiancati dai giornalisti Delle più importanti Testate italiane Oggi abbiamo Trasmesso in diretta Su Fano TV I primi appuntamenti Della manifestazione Che potrete rivedere Anche in replica Alle 18.30 Si è svolto un incontro Con Gianluca Lioni E Michele Fina Che hanno presentato I 100 discorsi Che hanno segnato La storia E Marco Esposito Il direttore Di giornalettismo Ormai Siccome deve raggiungere Un pubblico variegato Il più ampio possibile Deve essere modulato Su diverse Cadenze Quindi quella un po' Più profonda La battuta Talkshow L'approfondimento La prima giornata Dedicata al festival Si concluderà Questa sera Con un incontro Che avrà inizio Alle ore 21.30 Sempre al Chiostro Delle Benedettine Con Alberto Bagnai Che presenterà L'Italia può farcela Equità Flessibilità E democrazia Strategie Per vivere Nella globalizzazione Saranno presenti Il parlamentare Stefano Fassina E Mario Sensini Del Corriere della Sera Vedi con questa pagina Dedicata alla cultura Si chiude qui Questa edizione Di Occhio alla Notizia Grazie per essere stati In nostra compagnia Per l'informazione Naturalmente domani mattina Alle 7.30 Occhio ai giornali E poi naturalmente Il telegiornale Occhio alla Notizia Tornerà domani sera Se vorrete puntuale Alle 20.30 Buona serata a tutti voi Grazie a tutti